CANDY E POESIA Sono diventata un'attrice del cinema e spero, con il vostro aiuto, di diventare famosa. Sì, Candy Candy è qui per presentarvi il suo primo film. Ah, non lo dite a nessuno, ma ho già incominciato a girare il secondo. Mi raccomando, è un segreto. Dunque, vi dicevo del mio primo film. Ci sono tutti i vecchi amici che avete già conosciuto alla tv. La dolce Mispone, Suor Maria, Tom, la piccola Enne, Stire Arci e naturalmente il principe della collina, il mio adorato Ennio. E poi c'è anche l'imprevedibile Teres, al quale non sono ancora riuscita a far perdere l'abitudine di chiamarmi tutte le antigeni. È tremendo quel ragazzo, ma mi piace tanto. Ah, un discorso a parte meritano Iris e Nillo. Ve li ricordate quei due antipatici che mi facevano un sacco di dispetti, alcuni dei quali veramente cattivi? Beh, io non li volevo nel mio film. Avevo minacciato di non farlo più, di stracciare il contratto, se quei due avessero lavorato nuovamente insieme a me. Ma alla fine ho dovuto cedere. Sì. Nel film, purtroppo, ci sono anche loro. Ma io non mi preoccupo. So come difendermi. Non perdo mai né il mio coraggio né la mia allegria. Ah, già, è vero. Mi ero dimenticata di Clint. Allora, bambini, venite tutti a trovarmi al cinema. Passeremo insieme un paio d'ore divertenti. Mi raccomando. A presto. Non mancate. E' vero dall'ora. Ma a presto. A presto. Ma a presto. Non ma我 laughing.